Salve traders, buongiorno, qua un'altra volta Eric Munoz in Lion Bull Academy Oggi vi voglio far vedere degli ETF per trader come me che gli piace molto il mercato al rialzo Io per esempio come sapete non sono una persona di andare a mettere vendite Io sono soltanto una persona che gli piace andare in compra Non mi piace le vendite, non ci posso fare niente Allora vi ho portato un paio di ETF, 5 in totale, che si dedicano a andare nei mercati al rialzo, nei mercati long Con leva X3 automatica, sono ETF molto interessanti, soprattutto fatti per fare dei trading Andiamo velocemente a vederli Prima di tutto ci abbiamo SOXL, Direction Daily Semiconductor Bull 3X Un ETF basato sulle tecnologie e come vedete c'è scritto Bull 3X Che sarebbe andare in lungo, comprare all'Eva 3, che è un mercato al rialzo E' un attivo molto interessante per fare dei trading Adesso ve lo faccio vedere Swing anche va bene, sai, per mantenerlo per il corto termine Anche se sta andando molto forte ultimamente In questi ultimi debitori, la tecnologia ha fatto un bay boom Sta andando molto molto forte Però questo è un attivo che si utilizza normalmente per fare trading Non sono per mantenere per 20, 30, 40 anni Sono per fare trading Il seguente che vi faccio vedere è YIN Direction Daily China Bull 3X E' del mercato cinese Ve lo dico subito Questo è un attivo un po' più volatile Veramente E' interessante per fare trading Anche lui in tempo, in corto tempo In corto tempo sarebbe massimo Swing trading massimo di un paio di giorni, settimane Forse qualche mese Potreste anche darci, ma non più di quello Come potete vedere in un giorno ha fatto un meno 6,58% In cinque giorni ha fatto più un 9,98% In un medio ha fatto un 37,56% In sei medi un 87,75% In un anno 53% In tempo di un anno, no, quest'anno In un anno 63% In cinque anni 186% In dieci anni meno 38% Come potete vedere per il lungo termine non vale E il massimo per adesso siamo abbastanza giù Questo è interessante anche da averlo in considerazione Dai, lo mettiamo anche lui nella nostra lista di possibili trade E... ecco lì Dai, seguente Gli abbiamo D, F, E, N Questo veramente sono molto interessante E Directional... Sono molto interessato, scusate Directional Daily Aerospace e Defense Bull 3X Questo veramente adesso è asceso tantissimo Dovuto a che dentro uno dei suoi holding Delle sue azioni che c'ha dentro l'ITF E Boeing l'ha buttato abbastanza giù Però è un attivo che c'ha abbastanza futuro Adesso vi faccio vedere subito Questo mi piacerebbe per mantenerlo per un po' di tempo In un giorno ha fatto meno virgola 3,72% In cinque giorni ha fatto un 1,27% in più In un mese un 10,99% In sei mesi un 42% Quest'anno è su un 8,10% In un anno è andato giù un 73,86% In cinque anni, non ce lo dice perché è giù Però prima di succedere la situazione della pandemia Era abbastanza forte Allora, a me mi interessa molto questo attivo Perché spero nella lunga di tornare ai livelli di 65,70% Allora, questo è un attivo che sicuramente oggi vado e lo compro E andiamo al seguente Dove siamo rimasti? Sì Labu Labu.us Direction Daily SP Biotech Bull Questo è basato anche in farmaceutiche della biotecnologia Anche lui in X3 Andiamo un po' a vederlo Mettiamo il massimo prima di tutto Come vedete, il massimo E siamo ancora in giù dai massimi licestati nel 2000 In un giorno ha perso un 8,16% In cinque giorni ha perso un 12 In un mese ne ha guadagnato un 15 In sei mesi un 139% Quest'anno è su un 43% In un anno di tempo ha fatto un 142% in 5 anni è riuscito a fare un 402,55% in 10 anni niente è giù E questo è un altro attivo anche da tenere in considerazione Lo prendiamo e lo mettiamo nella nostra lista di possibili trading Andiamo adesso all'ultimo E parliamo di Uco 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 Allora, vi spiego Che cos'è Uco? Uco è ProShare Ultra Blumber Crude Oil Che fa sto ITF? Segue anche lui Il leva X2 Il movimento del petrolio Va bene? E dell'indice del petrolio Non è dello spot price Dell'indice del petrolio Va bene? Allora Non è esattamente un attivo da tenere per il lungo termine Perché sempre dovuto al contango Sarà sempre in discesa Però Per fare dei trading In movimenti Anche qui in trading di pochi giorni Massimo un paio di mesi In movimenti al rialzo del petrolio Quando aspettiamo che il petrolio continui a continuare al rialzo È un buon attivo per fare trading e fare dei bei profitti Dai Spero vi sia piaciuto il video Se avete qualche dubbio Me lo commentate Qua al di sotto Va bene? Ricordate di stare attenti a questi attivi Perché sono molto volatili e molto forti Come potete vedere per esempio qua Uco Ha fatto in un giorno È caduto un 3,2% In 5 giorni ha fatto un 8,29% In un mese un 32,05% In 6 mesi ha fatto un 60% In un anno In quest'anno Già è sul 50% In un anno di tempo è caduto un 85% In 5 anni un 85% In 10 anni un 90% Perciò state attenti Non è per il lungo termine Però sì per fare dei trading con lui Un'altra volta Molte grazie Ricordate like Commentare se avete dubbi E non vi dimenticate di iscrivervi al canale Se ancora non siete iscritti su Itoro Ricordate sotto nella descrizione Avete il link Al mio Link di affiliato Se voi vi iscrivete a Itoro Con questo link Quando comincerete a fare investimenti Per davvero Senza usare la demo Quando sarete in reale A me Itoro Mi darà una compensazione economica Come sempre sapete Mi piace fare tutto Molto trasparente E dirvi come guadagno io anche soldi Io Utilizzo Itoro Per questo Vi do anche il link di affiliazione Perché se non lo utilizzerei io Non ve lo darei proprio A me piace Condividere le cose che io sto utilizzando E sono utili Dai un'altra volta Molte grazie Ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi